Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. L'impatto è avvenuto a circa 50 metri dalle strisce pedonali. La donna è rimasta incastrata con la testa a contatto con la ruota anteriore destra del veicolo, ma è rimasta sempre cosciente nonostante la gravità dell'accaduto. Provvidenziale e delicato l'intervento dei vigili del fuoco di Ostuni che hanno utilizzato particolari cuscini di sollevamento per liberare la malcapitata e affidarla in seguito alle cure dei sanitari del 118. L'anziana ostunese è stata curata sul posto, ma a causa della visibile ferita alla testa e della perdita di sangue è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Ostuni, coordinata dal comandante quirico d'Aversa. Presenti anche gli agenti del commissariato di polizia della Città Bianca. L'investimento di ieri è solo l'ultimo di una serie di eventi che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale in questa zona e in altre parti della città. Molti residenti e cittadini si sono detti preoccupati per la sicurezza dei pedoni in questa via e anche in altri punti dove purtroppo si registrano comportamenti imprudenti come l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali o velocità eccessiva da parte dei veicoli in transito. L'amministrazione comunale, per il tramite dell'assessore con delega alla viabilità Laura Greco, giunta ieri e mattina sul luogo dell'incidente, nell'esprimere dispiacere per il fatto accaduto, fa sapere che è in corso la procedura per la realizzazione di circa 10 attraversamenti pedonali rialzati nelle strade maggiormente percorse in città e più a rischio. Già lo scorso marzo il comune sotto la guida del sindaco Angelo Pomes aveva effettuato insieme alla polizia locale una serie di sopralluoghi in alcuni punti della città con l'obiettivo di migliorare la sicurezza per i pedoni tra cui via Nino Sansone, viale Aldo Moro e per l'appunto via Avvocato Donato Cirignola. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi, l'investimento della 92enne ostunese evidenzia la necessità di accelerare i tempi degli interventi per scongiurare nuovi episodi drammatici. L'assessore Greco ha inoltre invitato gli automobilisti a rispettare la segnaletica stradale, a non distrarsi e a non utilizzare il telefono mentre si è alla guida perché l'auto, ha affermato Laura Greco, rappresenta anche una potenziale arma se gestita non correttamente. Ieri si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile, un evento di grande importanza, dedicato a onorare la memoria dei bambini che non hanno avuto la possibilità di vivere, sia che si tratti di piccole vite non ancora nate, sia di neonati che hanno vissuto solo per pochi giorni o settimane. Questa giornata è un momento di riflessione profonda che mette in luce un lutto spesso poco compreso e talvolta invisibile agli occhi della società. Le famiglie che si trovano a vivere questa tragica esperienza devono affrontare un dolore immenso e solitario. L'obelisco di Santo Ronzo in Piazza della Libertà è stato illuminato di rosa e blu, colori simbolici scelti per rappresentare la sensibilità e l'amore verso i piccoli che ci hanno lasciato. Questa illuminazione non è solo un gesto visivo ma un invito a promuovere una cultura di empatia e condivisione per sensibilizzare ed educare la società finché queste esperienze di lutto non rimangano più nel silenzio. La scuola di architettura per bambini SOU per Ostuni venerdì 18 ottobre darà il via al quinto nuovo anno accademico. Intanto si è svolto il primo open day presso le officine Tamborrino con i bambini che insieme alle loro famiglie hanno partecipato ai primi laboratori didattici presentati dalla direttrice designer Sara Mondaini. Le iscrizioni sono sempre aperte per ogni informazione scrivere alla mail presente sui profili social della SOU per Ostuni. La presentazione del nuovo anno a cura di Sara Mondaini. Siamo qua per l'open day di SOU Stuni, è il nostro quinto anno che inizierà il 18 di ottobre quindi con oggi c'è un piccolo laboratorio di prova per i nuovi ragazzi che vogliono fare questa esperienza e apriamo ufficialmente le iscrizioni. Certamente ringraziamo le famiglie e i ragazzi che continuano a darci fiducia e a continuare questo percorso insieme a noi anche quest'anno. Ci saranno tantissimi docenti ospiti come architetti, designer, illustratori, scultori ma anche giornalisti perché vogliamo che appunto i ragazzi possano scoprire queste attività e scoprire questa bellezza che abbiamo intorno. Siamo super carichi per partire con questo nuovo anno dove il tema è appunto la cultura della pace proprio perché vogliamo sottolineare quanto in questo momento storico sia importante lo stare insieme, essere empatici, mettersi nei panni degli altri per superare i conflitti. Quindi lo faremo insieme ai ragazzi dandogli la possibilità di ragionare e capire come lo spazio intorno a noi possa aiutarci a superare queste difficoltà. Quindi ringrazio comunque anche le ufficine Tamborino che ci ospitano nella loro casa e vi aspettiamo. La UGL Salute di Brindisi esprime preoccupazione per la situazione critica dei servizi di front office dell'ASL di Brindisi, aggravata dall'uso improprio delle risorse e dalla mancanza di materiale di consumo. Il segretario provinciale Alessandro Galizia denuncia la chiusura di sportelli e il funzionamento ridotto di postazioni come quelle del poliambulatorio di San Pietrovernotico, Fasano e dell'ospedale di Ostuni, operative solo al 50%. Galizia critica la disorganizzazione e sollecita interventi urgenti per garantire un servizio efficiente e adeguato all'utenza. Il progetto di inclusione sociale Le Orecchiette che vorrei sbarca al G7 per le disabilità, ora in corso ad Assisi. Un'importante opportunità per i ragazzi autistici coinvolti nel progetto che avranno l'opportunità di interagire con i ministri dei sette grandi del mondo. Tra questi il ministro italiano Alessandra Locatelli che ha già espresso parole di encomio. Il progetto rappresenta anche la Puglia al G7. Il primo laboratorio di questo progetto avrà luogo ad Ostuni ed è proprio qui, presso Palazzo San Francesco, che nei giorni scorsi è stato presentato. Il servizio. Sì, mi sta piacendo il progetto. Stiamo imparando a fare le orecchiette ed è un'esperienza davvero bella. Stiamo facendo molte amicizie. Un ringraziamento a Zahira che ci sta seguendo in questo bellissimo progetto. L'idea progettuale nasce da un'esigenza di un disagio familiare profondo nella gestione di questi ragazzi, dove l'offerta pubblica in questi centri non dà la loro giusta dignità. Non li integra verbalmente, a volte anzi dimortifica e li rende invisibili. Io con questa esperienza che ho vissuto ho voluto un attimo dare un taglio differente. Per cui ho immaginato di creare dei laboratori dove produciamo pasta. Quindi loro diventano i protagonisti, i veri attori. Sto vedendo una vera attenzione intorno a questa attività da parte anche delle istituzioni. Questo mi gratifica e mi onora. Ho sposato in pieno questo progetto Iuri, che daremo inclusione ai ragazzi autistici, per cui un grande aiuto alle famiglie. Siamo qui oggi per testimoniare alla città di Ostuni quello che stiamo facendo su questa propria città, perché la prima sede e la sede dove i ragazzi lavorano è proprio qui ad Ostuni. Per cui onore al sindaco che ci ha permesso di stare qui questa mattina e vogliamo far conoscere veramente a tutto il mondo a questo punto, perché ci stiamo prefissando degli obiettivi internazionali a tutto il mondo, quello che questi ragazzi sono capaci di realizzare. Un ringraziamento anche alle famiglie, perché le famiglie di questi ragazzi credono in noi e piano piano faremo conoscere tutto quello che di buono faranno questi ragazzi sul territorio. L'obiettivo della medicina e l'obiettivo delle istituzioni è quello di riportarli ad una condizione di partecipazione a livello sociale e questo è possibile favorendo le buone caratteristiche che essi hanno tenuto conto che in buona parte dei casi non ci sono deficit di tipo intellettivo. Quindi non hanno bisogno di cure, ma hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di comprensione. L'azienda sanitaria locale offre un servizio importante a livello territoriale che è il centro territoriale per l'autismo che ha sede a brindisi che è costituito appunto da un gruppo coordinato dal dottor Saponaro, un'equip multiprofessionale che si dedica appunto a questi disturbi dello spettro autistico sia nei ragazzi, nei giovani che negli adulti, con l'obiettivo di garantire una vita migliore a questi nostri amici. Il progetto è sicuramente un progetto importantissimo perché è un progetto di inclusione e dà ai ragazzi con lo spettro autistico una possibilità di lavorare, di acquisire competenze e di avere anche un'autonomia sia economica che di movimento. La regione Puglia prende con favore sia la regione che l'ha su questo tipo di iniziativa e non può fare altro che diciamo essere contenta che ci sono persone che mettono il proprio tempo, il proprio lavoro a disposizione di chi ha bisogno. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il servizio poveridiano e notturno. Meteo giornata con tempo variabile, venti di tramontana, temperature in diminuzione, mare mosso. Citazione odierna. Fate attenzione ad essere troppo disponibili, dopo scatta la pretesa, non la riconoscenza. Grazie per aver preferito la nostra informazione.